Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Clippa qui Andre! Vai subito! Certo che vado! Aspetta che adesso finisco un attimino che mi danno la clipata un attimo adesso vi saluto Ah la cam la cam la cam la cam la cam Vai clipa qua clipa qua! No Andre mi serve questo! Adesso ti saluto adesso vi saluto io due ragazzi un momento eh Dai dammi la top fammela vedere Dio Merda Vai cazzo Easy No non ho bestemmiato Perché? Oh la gama che cosa è? Cazzo devo fare? Ma che cosa cazzo devo fare? Ma Dio caro! Ma Dio caro! Invasato di merda! Figlio di puttana! Invasato del cazzo! Quei coglioni lì! Te li devi mettere nel culo! E te li devi ingoiare! Tu e quella troia di tua madre! Invasato di merda! Invasato di merda! Dio caro che è invasato! Un attimo! No! 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 lo sapevo lo sapevo un attimo allora poi non metti in mezzo alle paole Bobby e le sue cose quando volete bravi ragazzi mamma mia ragazzi no tu sei morto a Rackings perché giustamente era loro vecchio ma motor che cazzo e stavo facendo l'esempio visto che mi stavano dicendo le minchiazze se dovesse capitare che Clueber sta cadendo da un burrone e io dovrei uccidermi io per salvare lui non lo faccio mi sembra giù o anche ho fatto l'esempio se fossi al contrario probabilmente mi faresti vedere il culo peloso non sei d'accordo con me? sei d'accordo con me? anni fa oggi abbiamo mangiato pasta con tonno e peperoni veramente buono e intanto proseguiamo c'è un babbo natale eh su Fall Guys spingiamo duro Nick spingiamo i capperi grazie Nico che è molto attento e mi ricorda e mi ricorda la cosa e i capperi è uno Skyfall clip moderazione ragazzi abbiamo fatto 14 punti sono god abbiamo fatto due kill che top abbiamo preso raga non mi fa vedere la top ok top 10 clip qui Andrey per sta pieno clip qui Andrey ok ochio vacca abbiamo shot a te ni a 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 shot a te menti BERS GOOOOO let's goooooooooooooooooooo let's goooooooooooooooo Andrei clippa Porco diaz Dai cazzo Clippa tutto Andrei Oddio benedetto del dio Del dio Ma quello come lo fa a sapere Bravo Una balla su sta fot... Andiamo Il signor C mi dice Che io sei scarso Cazzo è meglio essere scarsi che essere coglioni e falliti come te Andiamo Dentro in 21 Io devo Veramente pusciazzare un attimo adesso Se troviamo la corona è god Dio porco Ma porco dio Dio benedetto del porco Dio caro Vai a pari Ahia porco dio Merda dio Vabbè tanto ce le ho dette Porco dio porco dio Dio porco dio Dio bestia Dio porco dio Dio merda E porco dio scherzo Ma porco dio lo abbiamo fatto Cristo merda Ma questo Ero convinto di averne dette molte di meno Per prenderlo? Yo yo Oh night grande pazzo Oh oh Yo oh oh Night grande pazzone Night Salve Buongiorno Sono passato per un saluto Grazie anche perché finisco questo E poi stacco Dopo dieci ore Mi fermo qua Mi fermo Grazie mille Night Grazie di cuoro Vamos Dagli il link al sere in privato uomo No 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 Ma Madonna di Dio Cristo Cristo non era power comunque mi di conto la regia Andre clip Senza portate Ce l'hai Andre Ce l'hai Perché avevamo i portati Ma chi ce l'ha il joystick Addio di quel Dio di quel Dio di quel tipo Adesso torno su Fortnite OE! Wonder Woman Suca puttana Suca troia di merda Easy Grazie Violetta per le 50 Io sto minchia di cazzo in faccia stronza Bene così bene così bene così Sei ancora qua Ma che cazzo di musica di merda c'è sotto poi Andre preparati a clippare Andre Quando moriamo io apro la mappa Aspetti che tolgo la cam E poi clip Ma che cazzo fa Non l'ho sentito neanche Ma non ci credo Questo immaginati che culo Stava limpando Clip qua clip qua Andre Clip qua Ce l'hai la clip Ce l'hai rimetto Com'è stata? Voi state sentendo con la PAMI giusto? Ciao Domenico Ciao Gianluca Ciao ragazzi Ciao Manu Buongiorno Scusatemi sono devastato Salve Bastardo Bastardone il bassista Bello qua il passaggio Merda A matrimoni imbucati Grazie mille ragazzi Grazie 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 Buongiorno Buongiorno a tutti Buongiorno a tutti Buongiorno Stefano Buongiorno Simone Buongiorno Cervo Casa Matti Big Max Filo Pabluzzo Manu Jack Vitri Snicks Yoshi Filo Leon Buongiorno anche a Dennis Marechiaro GH Edstern Sono italiano Samore di Scampia Leone Zio Paperone Alex Lo scippatore Filippo Ngolo Samuele Kratos Lamo Super King Gilman Nusora